Dunque il primo esercizio che gli facciamo fare della prima discesa è imparare a copiare due dossi che in realtà sarebbe un doppio, quindi questo e quello. Fantastico! Fantastico! Benissimo! Ottimo! Buona! Bravo Ale! Occhio a non andare troppo giù col mento vicino al manubrio, usa le gambe e non tantissimo le braccia. Molto bene! Bravo! Molto bene Ivan! Molto bene! Molto bene anche tu! E qua abbiamo il Cristian! Bravo Cristian! Molto bene Fritz! Bravo Ottoboni! Adesso che mi hanno dimostrato tutti di saperlo copiare, provano a sdoppiarlo. Bravo! Bravo Ale! Molto bene Leo! Ah Ricky ha anticipato un po' la pompata, però bravo! Ok! Bravo Seba! Eh hai anticipato un po' la pompata Fritz! Invece Alice lo deve copiare! Brava Alice! Brava! Però mi raccomando, non con i gomiti bassi e il mento vicino al manubrio. Il busto alto, i gomiti belli larghi. Occhio Luca! L'hai fatto proprio brutto perché l'hai pompata un metro prima, quindi sei arrivato sul salto scarico e ti sei un po' impuntato. Molto bene, bravo! Vai! Perfetto, sei anche arrivato lungo Ivan!